Premiazioni e tempo di bilanci per la decima edizione di Building a Puglia, costruendo l'identità della Puglia, la Puglia che scrive, che edita, che parla di sé, l'originale rassegna promossa dal Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia. Nell'Aula del Consiglio si è tenuta la cerimonia conclusiva della rassegna interamente curata da Daniela D'Aloiso, dirigente Servizi e Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale. La finalità ovviamente è quella di diffondere la cultura e di promuovere la lettura attraverso la presentazione di libri dei nostri autori. La Puglia è una regione che ha tanto da offrire anche e soprattutto da un punto di vista culturale. Nel corso del brainstorming finale della rassegna sono stati consegnati i premi Building Puglia 2013 agli studenti dell'Istituto Vivante Pitagora, del Santarella e del Liceo Classico Orazio Flacco di Bari, con la lettura delle loro recensioni sui libri che hanno accompagnato il percorso letterario. Per il primo anno è stato istituito il premio Building Puglia per gli scrittori emergenti, vinto dal giovane autore pugliese Giuseppe Grossi. È stata un'esperienza, una mattinata molto significativa perché c'erano tanti ragazzi che non solo hanno letto dei libri, che di solito è il problema che lamentiamo sempre, ma soprattutto li hanno saputi capire questi libri e ne hanno parlato. Quindi è stata una mattinata piena di condivisione in cui i ragazzi hanno dimostrato grande spirito critico e insomma sono benvenuti ad iniziative come queste. Dopo la consegna degli attestati di partecipazione, dei premi e dei ringraziamenti di rito, l'appuntamento è per il prossimo anno, per l'undicesima edizione di Building Puglia.